Inizia domani, il 18 settembre, la nuova stagione di X-Factor. Il 16 settembre si è tenuta la conferenza stampa in cui tutto il cast del programma ha incontrato i giornalisti per illustrare le novità della stagione 2014. La giuria sarà composta da Vittoria, Fedez, Morgan e Mika. I primi due si sono dichiarati davvero emozionati all'idea di affrontare questa nuova esperienza televisiva. Anche Mika è più energico che mai ha manifestato tutto il suo entusiasmo. Le selezioni del talent show dureranno 5 puntate attraverso le quali si toccheranno tre città importanti, Roma, Torino e Bologna, e le aspiranti candidati avranno modo di esibirsi non solo davanti ai giudici ma anche a migliaia di persone. Quest'anno il pubblico avrà accesso ad un'altra importante fase della selezione, il bootcamp. Dopo le selezioni, i 24 talenti scelti partiranno per le home visit e già si conoscono le destinazioni. Morgan volerà a Vienna, appoggiato dal grande Eugenio Finardi. Vittoria si regherà invece a Londra e potrà valersi del sostegno dei bloody beat rules. Fedez si ritroverà all'interno di una splendida scenografia in una villa di Milano, sostenuto da Raffael Gualazzi. Infine Mika raggiungerà la Sicilia con l'aiuto del simpatico Elio. Solo dopo le home visit inizieranno i live show che andranno avanti per otto settimane. Il conduttore del programma Alessandro Cattelan ha dichiarato che X-Factor rappresenta per lui uno dei lavori più belli del mondo. A questo punto la nuova sfida può prendere di via.